A fine maggio Veneto Sviluppo prevede 50.000 posti di lavoro persi, soprattutto nella parte di quelli che hanno il contratto in generale, oppure a termine, oppure quelli che non lavorano più in spiaggia. Diciamo che ci può essere un passaggio sulla disoccupazione, per questo non sarà sufficiente per aspettare il prossimo anno. La Regione Veneto in questo come si sta muovendo? La Regione ha fatto un pacchetto importante, l'avete sentito in settimana, con un pacchetto di oltre 500 milioni con denari veri, ovviamente, che sviluppano poi con garanzie e potenzialità attraverso Veneto Sviluppo un miliardo e quattro circa. L'abbiamo presentato l'altro giorno assieme al collega Marcato e al governatore Zaia e quindi su questo intanto ci stiamo muovendo e ai primi di giugno usciranno già i primi bandi con delle risorse anche importanti a fondo perduto proprio per aiutare il sistema imprenditori e il sistema delle partite IVA. Dall'altra parte c'è il tema e la preoccupazione che dicevi, che è quello legato invece all'occupazione. Un dato oggi ci dice che ci sono 65 mila posti di lavoro a rischio, dei quali 30 mila solo nel settore turismo e quando parliamo di settore turismo parliamo anche della costa Veneta ovviamente. E quindi siamo preoccupati ecco perché vogliamo vedere col bicchiere mezzo pieno nel senso che vogliamo che ci sia data fiducia soprattutto nel mondo economico e del turismo perché poi a lavorare nelle spiagge, a lavorare anche nell'entroterra e nei nostri territori sono quelle famiglie che utilizzano l'attività stagionale per poi maturare magari anche l'assegno di disoccupazione per la parte invernale e che è quello che poi rende il bilancio familiare ovviamente. Quindi assolutamente dobbiamo esserci. È una prerogativa del governo perché come ben capirai la cassa integrazione piuttosto che questo tipo di risorse non è in grado di assolverle e non è neanche una prerogativa della regione ma stiamo facendo le giuste pressioni affinché da una parte maturi l'economia e possa dare risposte concrete dall'altra parte dove non riusciamo ad arrivarci ci sia un governo, ci sia un governo centrale che dia delle risposte per non mettere in difficoltà e diventi un autunno magari difficile per molte famiglie che magari hanno perso il posto di lavoro che invece contava per il bilancio familiare.